Abbiamo costruito questo master plan su questa articolazione di priorità. Intanto l'ambiente, il risanamento di tutti i siti inquinati, il completamento dell'efficienza dei depuratori, le piste ciclabili per fare in modo che questa sia una regione riconoscibile in Europa per il cicloturismo e per le ciclovie, poi la banda ultralarga nelle zone industriali, poi ancora il completamento del ciclo idrico integrato dal punto di vista della sua efficienza, poi molta trasportistica su gomma, su ferro, su acqua, il completamento dei porti abruzzesi, alcune importanti connettività, ferro-gomma per esempio per quanto riguarda la L'Aquila Pescara, per quanto riguarda anche l'aeroporto di Pescara e poi c'è il quarto lotto della Teramo Mare, c'è l'ultimo miglio che concerne il porto di Vasto, un importante focus di investimenti su Ortona e Pescara e poi una grande scelta di campo abbiamo fatto su alcuni contenitori straordinari culturali, penso alla Badia di Sulmona che verrà completata con 12 milioni di euro, diventa il luogo dello spirito d'Abruzzo, o il manicomio di Teramo, o l'Abruzzo regione della vista con la Dompe e l'università di Chieti e poi ancora lo zoo profilattico a Teramo che diventa oggetto di un importante investimento per i laboratori. Insomma si tratta della pratica, della cultura, della priorità e della cultura della collaborazione istituzionale. Noi entro 24 mesi un terzo di questi investimenti devono essere completati, un altro terzo deve essere avviato e poi il resto si sviluppa di qui a cinque anni.